Fiamme nella cucina di un'abitazione a Schio in provincia di Vicenza. Una donna intossicata è stata portata in salvo dai vigili del fuoco. È accaduto un quarto d'ora prima di mezzogiorno di mercoledì. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Maroncelli a Schio, chiamati per un principio di incendio all'interno della casa. La donna è stata portata in salvo. I pompieri arrivati dal locale di staccamento sono entrati dotati di auto respiratore da una finestra, rinvenendo all'interno la signora, che è stata subito soccorsa, portata fuori ed è stato prestato il primo soccorso con la somministrazione di ossigeno, mentre altri operatori hanno spento le fiamme divampate nel locale cucina. La donna è stata poi assistita dal personale del SUEM e trasferita all'ospedale. Danni da fumo sono stati registrati in tutto l'appartamento. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche la polizia locale.